tutti gli organizzatori di questo evento che avremmo invitato molto interessante in otto minuti cerco di di dire alcuni passaggi che mi stanno a cuore. Primo l'analisi di contesto che è più grave di quella che appare. Consentitemi un po' di portare un'esperienza di chi ha vissuto in prima linea non solo da amministratore ma anche da analista approfondito di che cosa significa il sistema criminale, il denaro pubblico e la riduzione degli spazi di democrazia. Ci stanno preparando allo stato di eccezione permanente. Il disegno eversivo di Licio Gelli è in piena espansione. Repubblica parlamentare annichilita, presidenzialismo di fatto, magistratura che perde la spinta ideale, vado per titoli, informazione che diventa sempre più consolidamento del pensiero unico. Criminalizzazione delle del dissenso e marginalizzazione degli spazi di democrazia. Capitalismo in crisi e quindi cattivo. Guerra, economia criminale, distruzione dell'ambiente. Ricetta Draghi si riparte per non dipendere da Putin oltre che dal Qatar e dal Mozambico, dal fossile, da eliminare tutti i limiti alle emissioni dei rivieti, il nucleare, gli inceneritori, i rigassificatori. Non c'è una parola sull'economia circolare e l'autunno sarà ancora più pesante perché la gente già si sta preparando nuovamente alla pesantezza di una nuova ondata pandemica che ha ovviamente spento molta energia. Quindi di fronte a un quadro che appare devastante, questo è per noi una grande opportunità rivoluzionaria. Quindi dobbiamo avere parole chiare, noi non possiamo costruire alternative a chi pensa che bisogna costruire un campo per contrastare le destre sovraniste. Perché nel sistema ci sta tanto il centrodestra quanto il centrosinistra. È un consociativismo degli affari, del crimine e del capitalismo predatore. Anzi, le peggiori riforme, ve la dico come la penso, le ha fatte il centrosinistra. Poi nella vita ho sempre preferito gli avversari leali. Io non ho mai sentito dire, dall'uomo forse più distante da me, che Berlusconi, che lui è un uomo che ha speso la vita per il bene comune, per contrastare la mafia e contrastare la corruzione. Io mi preoccupo di quelli che ci hanno il volto e le parole, di quelli che pensano di ingannare il popolo nel cambiare e diventano cementificazione del sistema. E noi dovremmo anche contrastare il profondo, purtroppo, inganno, soprattutto al sud del Movimento Cinque Stelle. Io l'ho fatta la campagna elettorale in Calabria, dove abbiamo preso un risultato importante. E quanta gente mi ha detto, ma perché dovremmo adesso credere a questo movimento alternativo? C'è l'antidoto. E questa è la seconda parte del mio intervento. Noi dobbiamo costruire un, non solo l'opposizione al draghismo. L'opposizione al draghismo, da un punto di vista economico, sociale e politico, lo stiamo facendo. E credo che in autunno ci dobbiamo preparare a grandi mobilitazioni per portare quanto prima alla cacciata di un governo che fa il male del nostro paese e prepararci a una riconquista della democrazia. Ma io non voglio partecipare a un movimento politico che ha come obiettivo esclusivamente quello di opporsi. Perché io ho scelto di fare l'uomo delle istituzioni. L'ho fatto nelle istituzioni che sono anche profondamente intrise di marcio e cui ho visto con i miei occhi lo schifo che c'è dentro le istituzioni. Ma non ho perso la voglia di lottare perché il sistema criminale, i corrotti, mafiosi, i detentori del compromesso morale devono uscire dall'istituzione. Quindi noi dobbiamo mettere insieme opposizione sociale, movimenti di massa, lotte contadine, lotte operaie, lotte studentesche, lotte pacifiste, lotte ambientaliste, non allineati, delusi, astenuti, gente che magari non crede manco più a se stesso è avere la capacità di motivarli per costruire un'alternativa politica, economica, culturale, morale, etica e sociale. Noi dobbiamo avere l'ambizione di governare in connessione con le masse popolari. Non ci possiamo accontentare per i prossimi cinque anni del diritto di tribuna. Se poi il popolo ci mette nel margine a fare il diritto di tribuna, lo faremo bene come lo fanno le parlamentari di manifesto adesso in un contesto difficile. ma l'esperienza mi ha insegnato che quando si governa ed è per questo che l'esperienza napoletana è stata embargata, è stata sanzionata, è stata bombardata mediaticamente politica perché noi siamo stati gli unici che non hanno privatizzato, che non si sono seduti al tavolo del compromesso morale, che hanno fatto l'acqua pubblica, i beni comuni, la democrazia partecipativa, giovani, donne e senza mai perdere la connessione con le masse popolari. Altrimenti dieci anni e mezzo, avendo all'opposizione PD, Cinque Stelle, Italia Viva, Lega, Fratelli Italia e Forza Italia, non si poteva fare. Quindi questo ve lo dico perché se il quadro è drammatico noi dobbiamo entusiasmare e per entusiasmare dobbiamo avere capacità, responsabilità, maturità e non quella concezione del passo indietro per aprirci a un passo in avanti. Noi dobbiamo fare cento passi in avanti portando le nostre storie, le nostre identità, le nostre lotte in un movimento che sappia unire tutte queste diversità che però in un momento così drammatico si riconoscono in un manifesto etico, morale, costituzionalmente orientato, pronti a lottare, a governare, a non piegare la testa e sono anche d'accordo, vabbè non potrei non esserlo da uomo del Sud che il riscatto verrà dai popoli del Sud. Io ne sono fermamente convinto e quindi credo che adesso ci spetta a tutti noi mettere insieme tutte queste forze e chiudo dicendo che lo dobbiamo fare in maniera credibile, con parole chiave nette, radicali, non moderate, non siamo estremisti ma siamo radicali, siamo persone che sanno stare nelle piazze, sui social, nei luoghi di governo, sappiamo governare, siamo liberi, siamo onesti, siamo autonomi, siamo coraggiosi, siamo competenti, siamo folli, siamo innamorati, siamo pieni di energie e vogliamo cambiare questo paese. Mettiamoci insieme, qua siamo in tante e tante espressioni di esperienze di vita molto diverse, fuori ce ne stanno tante, ma per attrarre il cattolico, il parroco, lo studente che non ne vuole più sapere, il deluso e quant'altro, o troviamo una formula con cui siamo in grado di affascinare in questo cammino per la rivoluzione, oppure rischierà di prevalere quel grande centro filo americano che stanno costruendo con quelle famose gambette a sinistra e poi vediamo Conte se una volta tanto ha il coraggio non di dire una cosa e farne un'altra, perché la vita mi ha insegnato, le parole sono belle, il Movimento 5 Stelle ci ha fatto una capa tanta con l'onestà e con l'acqua pubblica, l'ultima volta è chiudo davvero, ho incontrato a Figo, ah ho due minuti, ho incontrato, allora posso dire un'altra, ho incontrato a Figo, l'altra volta con l'acqua pubblica, c'è il città, beh, perdonami amico mio, voi non solo non l'avete fatto all'acqua pubblica, state distruggendo pure l'unica esperienza che l'ha fatta, insomma io non mi fido, e allora noi dobbiamo rompere il sistema, non dialogare col sistema, qui non mettiamoci vicino persone che pensano alla gamba a sinistra, noi dobbiamo svuotare quella gamba e far venire la gente che sta lì in questo progetto, io girando vedo tanti segnali positivi, l'unica cosa che non ci chiedono, due cose, non fate esperienze che hanno già dimostrato che non sono attrattive e affascinanti, non fate cose personalistiche e individualistiche, fate cose collettive di movimento anche con individualità forti, in giro per il paese, con un fronte europeo che abbiamo messo in campo, e questo appunto nel minuto che mi era rimasto lo dico, il lavoro che si sta facendo con la Franza Insumis, con Podemos, con i portoghesi, con i curdi, con i palestinesi, ecco, essere non allineati per l'Europa, non solo dell'euro, della libera circolazione delle merci, ma l'Europa della giustizia sociale, della giustizia ambientale, della fratellanza universale, della corsa al disarmo, ma soprattutto l'Europa del Mediterraneo, che ha il cuore verso sud e verso tutti i sud del mondo. Questa sfida, secondo me, la si può sicuramente combattere, e io penso che addirittura la si può vincere. Non ci poniamo però l'obiettivo solo del 3%, del 2%, solamente delle elezioni. Noi dobbiamo costruire un progetto politico ambizioso di governo, perché la gente che va a votare e che noi dobbiamo rianimare è gente che vuole contare. È come quando uno inizia un campionato. Anche se tu sei una squadra che magari non sei favorito, ma la gente se la vuole giocare. Non partiamo subito con l'idea che noi saremo l'opposizione al grande centro filoamericano. Proviamo a far sognare. Già far sognare significa spostare gente dalle case e farle ritornare nelle piazze a lottare e a combattere. E quando combatti puoi vincere e puoi perdere. Quindi diamo forza e chi è depresso prepariamo dei kit una piccola pillola di emozione di fronte a quello che al bar ti dice e tu hai sentito a quello che ha parlato per la rivoluzione eeeh tanto non cambia mai niente tanto sono tutti uguali chi te lo fa fare e allora mi ricordo Troisi e Benigni ricordati che devi morire ricordati che devi morire morirò fra cent'anni ma da mo' a cent'anni e voglio provare a dare un contributo per vivere in un mondo migliore. Grazie.